buonasera buonasera a tutti come il mio solito saluto eh che vi vuole diciamo esporre vuole trasferire tutto l'entusiasmo che metto in questa previsione anche quando come oggi come ieri iniziata la primavera meteorologica e per molti appassionati eh finisce diciamo un periodo che li tiene eh non dico sulle spine ma comunque che è il preferito per gli appassionati di neve e gelo ma che comunque il mese di marzo sappiamo che può presentare tantissime eh possibilità ancora per vedere un maltempo gelo un po' meno solitarie volte a nevitate sì quelle molto frequenti e solo in inciso la mia rubrica eh molti dicono ma parli sempre solo di questo ma eh la mia rubrica è mirata ad alcuni appassionati che ricambiano con un grande fervore devo dire ce ne sono tantissimi eh perlomeno nel territorio italiano ma anche qualcuno dall'Algeria ad esempio che mh amano questo tipo di fenomeni quindi ovviamente guardano la eh la mia rubrica eh di di eh diciamo diffusione della 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 materia con pensando di eh capire quale possono essere le tendenze mirate vedere se se ci saranno questo tipo di fenomenologie ovviamente non è che io non parlo della delle anticicolone perché non ci sono o del caldo c'è come eh veniamo da un periodo ad esempio d'estate caldissime io parlo di quelle che sono le preferenze mie innanzitutto e degli appassionati che mi seguono perché io ripeto faccio quello che avrei voluto qualcun altro avesse fatto per me quando ero adolescente quando era ancora un bambino che seguiva eh la meteorologia io faccio questa premessa alle volte sembra un po' ridondante ma perché poi quando in alcuni interventi mi dicono eh ma tu parli sempre solo di quello certo io parlerò di questo fortunatamente molti altri interventi sono favorevoli a questo allora veniamo subito al sodo che se no eh c'è una previsione che è molto molto eh incerta perché ci saranno ci sono gli effetti dello stratwarming si vedono ora palesi il volto cipolare li mostra chiaramente anche belli intensi e l'evento stratosferico estremo cioè quello in grado di causare un disordine in prolungato del volto cipolare in realtà sta avvenendo ora col secondo warming e come conseguenza sta avvenendo ora e da qui in poi si vedranno veramente gli effetti comunque non è detto che arriva il gelo e la neve da noi ma a scala emisferica si vedono e come e perlomeno adesso ancora c'è maltempo nelle nostre regioni guardate non in tutte ma c'è questo profondo vortice eh alcuni l'hanno definito un medica in realtà non lo è cioè mediterraneo un hurricane ma comunque in grado di generare notevole stabilità con il rovescio ancora su tutte le regioni centrali fa perno qua sulla corsica e altro maltempo che probabilmente sta arrivando tensione nelle estreme regioni meridionali lungo guardate questa perturbazione che sta risalendo potrebbe generare fenomenologie piuttosto intense al meridione per il resto siamo in prena una bassa pressione vi faccio vedere come continuerà questo ecco i fenomeni guardate qui temporali eh a largo delle olie eh rovesci nel centro e qui c'è l'evoluzione che ve la voglio mostrare rapida molto rapida altrimenti non non ne usciamo qui ecco qua queste queste di oggi vi faccio vedere diciamo il diverso tipo di previsioni questa è la previsione di stamattina del modello americano guardate che cosa arriva secondo queste previsioni nonostante in atlantico ci sia rendenza alla deriva del freddo che arriva da nord ma guardate che razza di eh peggioramento che c'è guardate il lobo siberiano come punta sull'Europa con una meno 40 anzi una meno 45 qui c'è eh nella scandinava medievale una meno 45 in quota e si vede come lo stratwarming guardate dove va a finire il nocciolo più gelo e qui in Italia c'è una forte andata di maltempo secondo questa previsione ma c'è da dire che non sono tutti concordi modelli vedete qua secondo il modello americano non arriva il gelo ma arriva tanti tanti peggioramenti guardate qua un altro ancora uno dopo l'altro arrivano insomma questa è una previsione il modello europeo di stasera la vede meno eh meno favorevole ci fa addirittura rimontare l'alta pressione dopo voi direte ma allora no allora eccolo qua arriva il peggioramento ma poi arriva l'alta pressione ve lo mostro rapidamente allora voi direte ma che cosa sta succedendo allora innanzitutto alla fine di questa prima decada di marzo quindi tra qualche giorno comunque il tempo continuerà a peggiorare dopo una prima ripresa peggiorerà di nuovo con possibile nuovo forte peggioramento qualcuno lo vedono più moderato altri molto intenso ma comunque arriveranno nuove piogge poi i modelli divergono ve lo faccio vedere se vediamolo aperta prima allora guardate qua eccola qui ve la faccio vedere subito da qua allora questa sono gli spaghetti del modello europeo sono molto significativi perché sono significativi guardate qua arrivate alla data dell'otto marzo cioè quando dovrebbe cambiare di nuovo il tempo guardate come divergono l'emissione ufficiale punta verso l'alto questo verde 18 spesso e guardate quante ce ne sono sulla prova vedete tutto questo questa diciamo mazzo guardate tutte queste prevede questa zona qua queste punte invece verso il freddo ma saranno una una ventina almeno quindi c'è una sorta di forchetto una biforcazione con due estremizzazioni negli spaghetti o l'uno o l'altro o arriva il caldo anticipo arriva freddo e mal tempo non c'è una via di mezzo secondo il modello europeo odierno e questo invece il modello americano di oggi la carta che ho alle spalle con un minimo di 983 ecco pascal previsto fra circa una settimana quindi diciamo sia metà dei primi giorni della prossima settimana grosso modo e questa è guardate la qui la nam odierna del modello americano guardate la propagazione com'è da manuale perché vi faccio vedere due cose questa è la propagazione che vedete come va questa qui che vedete adesso questo è l'ese il cosiddetto ese evento stratosferico estremo perché il precedente questa prima pulsazione qui metto ora p non ha portato alla media troposfera un evento stratosferico estremo adesso vedremo le maggiori conseguenze che già vengono viste nel mese di marzo alla fine della prima decada ecco perché io dico che il mese di marzo molto probabilmente sarà instabile spesso fresco con piogge con qualche evento più freddo non arriva il gelo non vi sto dicendo però sarà molto instabile con piogge mal tempo e spesso magari anche delle nevicate a quote anche basse localmente questo è quanto vi posso dire adesso perché se vedrete che i modelli andranno a instabilizzarsi in futuro adesso comunque c'è molta incertezza sicuro entro 7 8 9 marzo ci sarà una prima fase molto instabile con mal tempo vi aggiorerò iscrivetevi al canale youtube grazie e tante del seguito un abbraccio a tutti da meteoscienza ciao ciao a presto ciao ciao